buongiorno a tutti oggi siamo a sementina per mostrarvi questo due e mezzo locali compreso di giardino entrando nell'appartamento vediamo subito accolti dall'area dedicata alla cucina come potete vedere la cucina è composta di lavastoviglie forno microonde lavabo piano induzione forno e frigorifero subito a sinistra abbiamo questo camino molto caratteristico che dà accesso a questa piccola area sulla destra abbiamo questo corridoio che porta le varie stanze ecco sulla destra la prima stanza in questo caso è già arredata di un grande e molto comodo subito ci troviamo di fronte il bagno composto di specchiera lavabo il bidet il bici e la vasca infine abbiamo l'ultima stanza elemento molto importante all'interno dell'appartamento abbiamo una lavanderia proseguendo la nostra visita possiamo accedere attraverso la porta d'ingresso al nostro giardino rimane veramente un giardino molto ampio ad uso comune abbiamo quest'area protetta che ci permette di poter stare all'esterno e per finire abbiamo anche quest'area barbecue se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni non esitate a contattarci sia fitto